salve a tutti quanti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio di della dns tech pack e qui con me c'è gabriele prg e io sono il teschio guardate mi sono non ho mangiato per una settimana quindi guardate come sono dillo che è trombato come un caino si è dimagrito fino all'osso la mia faccia la mia risposta sarà questa sì ok ragazzi abbiamo fatto un sacco di cose interessanti in questi episodi adesso dovremmo dire che cosa vogliamo fare in questo episodio in questo episodio non faremo niente vi faremo solo così vi fisseremo tutto l'episodio così davanti dietro davanti lì dietro tutto l'episodio così quindi ciao ragazzi alla prossima secondo me secondo me ti conviene invece fare qualcosa in questo episodio oh mio dio quanto sei grosso abbassato aiuto sono racconofobica un ragazzi gigante non mi hi tit il di ti no devo scappare ced il di ti muori bastardo Che buco di culo che hai Sei un culo grosso Puzza, lavalo Cosa sei? Fuffi Ciao Fuffi No eh Facciamo qualcosa di costruttivo Invece di cazzeggiare Perché voi volete Vedersi Lavorare Ok, qua ha fatto 5 diamanti Vediamo un po' Vediamo un po' Gli ho messi nella cesta Eh ma fangulo allora Ce ne abbiamo 9 adesso Perfetto Qua invece ragazzi Dobbiamo spiegare il macchinario Un sacco di cose nuove Perché qua dobbiamo spiegarlo Allora, in pratica Cosa abbiamo fatto? Il query fuori Che adesso vi faccio vedere Il tito, tito, tito Sta scavando E come vi avevo anticipato Ho fatto i motori I force engine Che vanno a lava e acqua Tramite questo tubicino Blu qui sopra Teletrasporta corrente Riceve dal canale 1 E l'altro Sui motori in casa Trasmette sul canale 1 Quindi questo Sta ricevendo corrente Cosa fa? Scava Come potete vedere qui Questi tubi Volendo si potranno mettere Uguale a questo qua Che teletrasporta Però gli items Quindi Si fa senza queste barre rosse Ma diventa solo bianco e blu Però noi li abbiamo fatto direttamente Con i tubi E sinceramente Perché non ci ho pensato Comunque Vanno fino in casa E vanno fino a Qua sotto Se riuscirò ad arrivarci Ok In quel tubicino lì di diamante Come vedete Stanno già arrivando Se qualcuno Se quel cane si toglie Ve lo faccio vedere Ok Ecco Anzi Ci trasformiamo in Gallinaceo Che lui odia essere gallina In questi giorni Mamma mia Quanto lo odio Comunque ragazzi Guardatelo che carino Qui sotto Come vedete In automatico Questo qua di diamante Gli ho detto Che sulla parte bianca Quindi Qua la vedete grigia Ma è bianca Vabbè quella Deve andarci solo Cobblestone Sabbia E terra E terra Anzi impreciso E terra Cobblestone Sabbia Comunque E vanno su Sul nostro Duplicatore Esatto Quello che in pratica Dà la roba Infinita Per duplicarla Bravissimo Quello azzurro Quindi abbiamo I generatori di cobblestone Qua sotto Più il query Che ci manda Tutta questa merda Su E il resto Come vedete Adesso la sandstone Andrà dritta Uuuuh Che bello Perché ecco Anche quella Dovevamo mettere Nel coso Che in pratica Questo qua È come Un filtro È un filtro Ma questa qui La sentro Come si chiama Quella Non dovevamo Metterla Nel macchinario Ma siccome Ancora non ce l'avevo Non l'ho potuta Mettere Io posso mettere Solo i materiali Che ho Ovviamente Invece In quest'altro Filtro qui Cosa gli abbiamo Detto Di mettere Tutti i materiali Tipo ferro Oro No L'essore No Gli abbiamo Detto un cazzo Gli abbiamo Solo detto Che deve mettere Il copper Che l'ho appena fatto Che gli ha Gnagnata Non ho Gli or Quindi se tu vai Nella cesta di diamante E vai a prendermi Un po' di or Li mettiamo Qui sotto E in pratica In questo preciso Istante Se guardate All'interno Vedrete Solo il copper Quindi cosa succede Solo il copper Gira Sul giallo Quindi a sinistra Ti devo dare L'or Gli or Quindi il L'iron or Il gold or Tutto quello Tutti gli ori Quelli che in teoria Tutti i cubi Tutti i cubi Quelli diciamo Ancora da cuocere No Cosa No Che succede Ho messo un blocco Dove Sono una gallina Non posso Devo trasformarmi In enderman Comunque ragazzi Stavo spiegando Che In questo giallo Io gli ho detto Di andare qui sotto E come potete vedere Va nella cesta Di diamante Di sopra Che in pratica È sopra L'hopper E l'hopper È sopra Il maceratore Quindi In automatico Quando pescherà Copper In questo caso E poi tutto quello Che gli metteremo Quindi ferro Oro Alluminio Bronzo E tutto E tutto Quel che sia In automatico Va nel Maceratore Si duplica Perché il maceratore Macerando Da invece che Un lingotto Da due polveri E i due polveri Poi li mettiamo Nella fornace Abbiamo due lingotti Quindi Duplichiamo Gli oggetti Che scaviamo E in più Recuperiamo Sabbia Terra Cobblestone E tutto quello Che vogliamo Fargli bruciare Per duplicare Altri oggetti Quindi ragazzi Avremo Oggetti Infiniti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vogliamo dire Quell'acqua Cosa abbiamo fatto Visto che abbiamo messo Delle cose nuove Ah si E' vero Allora Ragazzi Qui sotto Ho fatto L'acqua infinita Con questo Water Pump Pipe Che è il 516 2.0 Mi porta Mi porta Adesso faremo I tank Per il Cock Oven Perché Creosote oil E' già a metà Quindi bisogna Fare i tank Ecco cosa facciamo In questo episodio Quindi Ci tira fuori Tutto qua Il Cock Che crea E' generano Corrente E mi vanno Questi due Macchinari Che tramite Che tramite questi due Macchinari Abbiamo creato Quella robaccia Lassopra Sul tetto Che in pratica È solo glowstone Liquefatta E l'abbiamo Liquefatta Con il Magma Crucible Una volta Fatto con Magma Crucible In automatico Gli ho detto Di esportarmela Sulla sua destra Quindi vedi Arancione Esporta I blu Importa E qua invece Gli ho detto Ovviamente Blu Importa Da sinistra Quindi Io Qua invece Ho bruciato Redstone Perché abbiamo Fatto Non mi ricordo Più Ah Gli energy Qualcosa Ve li faccio Vedere Energy Energy Sì E questi qua I Redstone Energy Cell Sì Redstone Energy Cell Che si fanno Con questo Energy Cell Frame E come vedete Fluid Transpuser Qua mi diceva Che ci voleva Glowstone Invece Ci va Redstone Quindi è sbagliata Questa mod qua Ma Io ho provato A riempirli Con la Glowstone Come dice qui Ma non si riempie Io ho riempiti Con la Redstone E funziona Perché io infatti Sapevo Che andavano a Redstone Qua mi diceva Glowstone Ho provato Ma non va E quindi Sono i macchinari Che ci sono qua su In poche parole E la Glowstone È un liquido Che Cioè Viene trasformato In liquido E penso che sia L'unico liquido Che ha la gravità Al contrario Quindi Sta sul tetto Invece che sul pavimento Ed è quella cosa Che vedete qua Potete farci anche Queste cose qua Che sono colonne di vetro E vi fanno Diciamo Da luce Perché come sapete La Glowstone Illumina Ecco E quella cosa Invece che abbiamo fatto su Quella cosa Che abbiamo invece Niente fatto su Sono i motori Di cui vi parlavo Io adesso Ve li farò vedere Mi trasformo un attimo In Bat E non pensate Alla battona Ma è solo Un Bat Mi siamo trasformati Contemporaneamente Ok Troppo su Come potete vedere Adesso vi spiegherò Il tutto Sotto C'è lì A sinistra L'Ender Tank L'Ender Tank Fa uscire La lava sotto Passa sotto I motori E si riempiono Tutti i motori Di lava Di qua Invece abbiamo Lì all'angolo Che adesso Non riesco Ad arrivarci Sicuramente Io sì Forse da qui No neanche Ah io ci sono arrivato Vabbè qua dietro C'è L'acqua Infinita Come cacchio Ci sei arrivato Tu lo sei solo tu Qua Comunque Ah ok Qui come vedete C'è l'acqua infinita Sono sempre I soliti 4 cubi D'acqua Qua c'è sempre La solita pompa Che mi prende l'acqua Me la porta In tutti quei tubi d'oro E mi porta sempre Acqua Continuamente Nei motori Quindi Facendo tasto destro Nei motori Se non laggo Eccolo C'è lava E acqua A palla Con al centro Le leve Per accendere Tutti i motori Contemporaneamente Quindi Bastano 5 leve Per accendere 11 motori Sopra ci sono Tutti i pipe Di legno Che sono i Kinesis Pipe Adesso Una volta Si chiamano Wooden Electric Pipe Una roba del genere Adesso l'hanno cambiato Wooden Kinesis Qualcosa Si Adesso Ma una volta Si chiamavano diversi Comunque Con quelli di diamante Perché sono quelli Che trasportano Più corrente In assoluto O Li ho collegati Perché I Wooden Funzionano solo uno Se mettere due Wooden a fianco Come vedete Non si collegano Si collegano solo Tramite questi qua Di diamante O coble Sono quello che volete Però i diamanti Sono quelli Che portano più corrente Vanno su questo Che teletrasporta Come vi ho fatto vedere Sender Onry Quindi In via solamente Sulla frequenza 1 Al query Al query Che sarebbe Quel macchinario Che avete visto In fondo Nel All'inizio Della puntata Comunque Bando alle ciance Facciamo I Tank Quindi 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 Mi ritrasformo E dai All'inizio Della puntata E dai Della puntata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi, adesso metti... Quella fa questo macchinario? Rolla in ferro. In pratica lo appiattisce. Quindi, se tu metti 4 lingotti di ferro, però metti ne... Quanto ferro hai? 28. 28 metti 14... 7 pezzi sul primo. E al centro li metti. Vabbè. A fianco a sinistra ne metti altri 7. Adesso sotto. Giusto. E ancora a destra di tutte e due altri 7. Eh, a destra di tutte e due non vuol dire niente, comunque. Al centro e sopra il centro. Perfetto. Lasciali così. Eh, ma perché... Ne ho messo 6... Cioè, ne manca uno qua... Sì, sì, va bene, va bene. Tanto vedi che sta già facendo gli Iron Plate. Aha. Adesso aspettiamo solo un attimo che li fa tutti. Però ragazzi, è finita la corrente, quindi... Dobbiamo aspettare. E usando quegli Iron Plate... Torniamo su Tank. Con gli Iron Plate possiamo andare per adesso giù. Vi facciamo vedere come si inizia poi... Vi facciamo vedere il resto. Andiamo nella Crafting Table. Le lastre di vetro ne hai? Sì. Lastre, no vetro? Lastre di vetro. Ah, è Tillo, allora. Il primo è il tuo vetro. Ti ho detto anche lastre di vetro. Vabbè, c'ho anche le Glass Pane. Come si chiamano quelle? Ok. Eh? Vieni nella prima Crafting Table. Eh? Allora, ti ricordi prima come hai messo... I pistoni? Sì. Ok, mettici gli Iron Plate. Aha. Negli altri 5, il Glass Cosi. E sbabbamme te. Ne vuoi rimettere altri due? Se ce li hai. E risbabamme te. Perfetto. Ok. Quindi ragazzi, questi tank, questi vetri, che serviranno a fare tank, ci vogliono sia questi vetri e sia gli Iron Tank che faremo qui. Quindi, hai altri 4 Iron Plate? Devo prenderli. Tanto ne serviranno tanti, 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 però. Adesso gli facciamo vedere. Comunque, nel frattempo che lui li prende, vi spiego. Come potete vedere, dice 8, che sarebbe altezza, scusate il mio inglese, ma io sono italiacano. Va bene, io 12. L'altezza deve essere, obbligatoriamente, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Ok, beh. Il diametro, che sarebbe la sua larghezza e profondità, che è il diametro solitamente di un cerchio, ma Minecraft cerchi non è A, quindi parlando di cubi, il diametro è lato e lato. Quindi, diametro deve essere, per forza, 3x3, 5x5, 7x7, o 9x9. Che cosa dobbiamo fare adesso? Adesso sto spiegando. Se voi invertite questi numeri, quindi mi fate, esempio, alto 3, largo 4, profondo 4, non funzionerà. Adesso vi faccio capire la differenza tra funzionare e non funzionare. Quindi, inizia a light tank, li facciamo, li facciamo direttamente sopra. Quindi, andiamo sopra. Sto laggando un bel po'. Comunque, lo facciamo alto 4, quindi 4 lo mettiamo qui, ok. Quindi, 1, 2, 3, 4, ci può stare. Metti un blocco di... no, aspetta. Dammi ne a me, va? Che se no, se te lo spiego è un casino. Dammi anche gli iron plate. Guardate come sto laggando. Allora, ti do 4 iron plate pure a te. Premi la E. Eh? E fai come se dovessi fare una crafting table. Aha. E si creano questi. Iron tank e wall. Perfetto. Quindi, ragazzi, lo scheletro, che adesso vi farò vedere. Quindi, 1, 2, 3, 4, facciamo... Ah, sì, 4, quindi qua. 1, 2, 3 e 4. Vedete? L'ho fatta alta 4. Poi la faccio 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quindi un 3 per 3, come potete vedere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. Dammi. Avete capito? Io adesso mi ritrasformo normale, così magari riuscire a vedere meglio. Dovete per forza farlo così. O più grosso, rispentando comunque le misure che vi dirà lui. E i vetri vanno per forza uno sotto, uno sopra, ai lati. Sbammete. E sbammete. Quindi i vetri ci sono già tutti. Devo chiudere io. Se devi chiudere, sperando che bastano, ma non bastano, mi sa. Ok. Bene. Vedete che si è trasformato? Che i vetri si sono uniti? Quindi, essendosi uniti i vetri, vuol dire che la misura che ho fatto è giusta. Siamo sicuri? Facciamo tasto destro. E si apre. Iron tank. Quindi vuol dire che la misura è giusta. Questo è il nostro tank. Però, voi dite, e come minchia si usa? Allora, si usa che dobbiamo riromperlo. Nel senso, dobbiamo per dirti, per dirvi, per fare, eh? Rompere, ipotesi, due vetri. E come vedete, lui si è rotto di nuovo. Quindi i vetri si sono separati. Al posto di questi due vetri, dobbiamo mettere due valvole. Le valvole cosa sono? Sono, in pratica, dei rubinetti, chiamiamoli così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Iron tank valve. Ok, quindi andiamo su. Le mettiamo con le due valvole al posto di quei due vetri. E sbammete, lui si richiude. Devo chiudere, quindi. Vai, chiudi con le due valvole. Perfetto. Avete visto che si è di nuovo modificato qua. Quindi tasto destro sopra e si riapre di nuovo. Quindi, adesso per comodità rirompo le valvole. No, le mettiamo di qua. Ho ragionato adesso. Rimetto i vetri dall'altra parte e rimetto le due valvole qui. Giusto per comodità perché io qua sotto ho la nostra... Come cacchio si chiama? Quella che abbiamo fatto lì, la... Questa. La cook oven. Quindi. Adesso mi serve. Un... Redstone engine. Porca vacca. Dobbiamo prenderti la redstone. Redstone engine. Il pistone di redstone. Quello classico, base. Forse ne abbiamo. No, abbiamo solo pistone. Vabbè, lo facciamo in fretta. Quindi un pistone... Ah, quello. Un pistone della... Ma cacchio si faceva il redstone engine? Red... Mio Dio, faccio io. Eh, fallo tu perché io mi sono dimenticato. Allora, devo prendere il vetro. Una... Eh... Un pistone. Pistone solo lì. Poi il vetro, credo di averlo. E poi tre blocchi di... Di legna. Di legna. Quindi. Non credo che bisogna prendere... Poi facciamo i tube. Tube. Quindi io mi prendo per... No, quindi è entrata. Questo. Anzi, lo facciamo questo qua. Questo qua. E questo qua. Perfetto. Hai anche del vetro? Eh, sì. Però... No, 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 aspetta. Non mi serve. Perché io avevo già fatto i tubi d'oro, se non sono finiti. E li avevo messi... E li avevo messi... Eccolo qua. Qualche parte. Ok. Eccoli qua. Eccoli qua, sì. Uno. Questi già ce li ho. Perfetto. Quindi sono, ragazzi... Wooden Fluid Pipe. E il Golden Fluid Pipe. Sono quelli che utilizzo io. Quindi. Piliamo una leva che è già qua dentro. Per, ovviamente, il Redstone Engine. Andiamo qui. Mettiamo i Fluid Pipe qui. Bam bam. Bam bam. Sbabam. Poi, adesso dovremmo mettere quello di legno qui. Se noi ci clicchiamo col tasto destro, si apre. Quindi, maiuscola premuta, tasto destro, e lui si piazza invece di aprirla. Adesso il nostro caro amico ci mette il Redstone Engine lì. No, l'ho dato l'ora a te. Ah, ok. Lo metto io. E non mi sfido. Maiuscola, tasto destro, si attacca sul culo. E decidiamoci. E lui inizierà a tirare via questo qui. Quindi, ragazzi, qui si sta svuotando. Noi andiamo sopra. A me sembra sempre lo stesso punto. No, no, guarda i numeri. Andiamo sopra. E abbiamo finito il Fluid Pipe. Quindi ce la prendiamo nel culo. Quindi dobbiamo andare a fare ancora Golden Fluid Pipe. Che mi dici a me lo faccio io. Dimmi il numero. Allora, il numero non lo so. No, ma devi solo mettere un vetro a centro, a destra un lingotto d'oro e a sinistra un lingotto d'oro. Tutto lì. Eh, siamo a corto di lingotti. Duplicali. E io ti do pure il trasforma liquidi. Quindi. Ci vanno questi a fianco. Tieni. Chi è? Niente. Sta facendo danni come al solito. No, abbiamo la polverina gialla che ci può fare... No, l'ho già cotta tutta quello che avevamo. E la Gold Dust che cos'è? È la polverina d'oro. Allora... Cosa è? Basta che la metti qua nella fornace e si cuoce e diventano lingotti d'oro. E allora, vedi che ne abbiamo. E si vede che l'ha già scavata. Eh, vedi, e continua a scavare. Facciamo così, va? Dammi te. Questo no, questo no. Questo no. Questo sì. Questo no. Questo qua, questo qua. Facciamo così. Ok, quindi ho fatto il Golden Transport Pipe. Giusto? Sì. E dopo li rimetti nella crafting e ci metti quelle ragnatele verdi a fianco. Ce ne abbiamo. Ce lo date nell'inventario. Ok. E ti fa fuori. Fatti. Perfetto, vieni su. La la lipa di pa di pa di pa 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 pa. Lo metto uno qui. Bravissimo. Vieni per avanti di uno. Ok. Sali di uno. Cioè, lo metto sopra quindi? Sopra. E uno che va verso il tank. Perfetto. E guardate. Sbabam! Eh, io mi sono messo qua e lui mi fa vedere. Avete visto? Tasto destro si sta riempendo. Quindi ragazzi, vi abbiamo insegnato come travasare i liquidi. E quindi noi adesso ne faremo altri. O magari romperemo questo, ne faremo uno più grosso, faremo un'altra stanza. Poi vediamo. E basta. Quindi questi qua sono gli Iron Tank. In pratica sono contenitori molto più grossi per svuotare quelle fornaci. Esatto. Va bene. Va bene. Quindi spero che siete stati contenti di questa nostra lezione. Io direi che possiamo anche salutarli. Ok ragazzi. Quindi abbiamo fatto un sacco di cose nuove. Ci siamo, abbiamo scoperto questa cosa che io non l'avevo già vista. Però io mi ricordavo che c'era l'acqua. Quindi non mi ricordo. Forse mi sono sbagliato. Si può fare con acqua, lava, con creosote oil, con petrolio. Con qualsiasi liquido questi si possono riempire. Quindi in pratica me l'ho ricordato bene allora. Sì. Con qualsiasi cosa che può passare attraverso quei tubili liquidi può anche andare dentro i tank. Quindi qualsiasi liquido che sia forse anche glowstone e redstone. Non ne sono sicuro, non l'ho mai provato. Però forse anche questa robaccia qua forse può andare dentro. Perché essendo un liquido in teoria va anche nei tubi. Quindi in teoria va anche lì dentro. Qualsiasi tipo di liquido. E quindi ragazzi nel prossimo episodio magari faremo qualcos'altro di innovativo. Sperando sempre che i materiali ce lo permettano. Ovvio infatti adesso magari tarderemo, lasceremo aperto il server che il query ci scavi un bel po' di materiali. Nel frattempo incominceremo a costruire qualche macchinario per le M.E. Perché quella ce ne vuole tanto, tanto, tanto. E quindi vi fracasseremo proprio i marroni. Esatto. Per chi non sa cosa sono i marroni si chiamano coglioni. Esatto. Quindi vi faremo vedere solo magari come si crafta ogni singolo pezzo. Eh vatti. Come si crafta ogni singolo pezzo. Ma gli altri li faremo offline o comunque magari velocizzati. Poi vedremo. Perché noi dovremo fare tanti, tanti, tanti. Ma veramente. Magari vi dico crafteremo l'items bla bla bla, numero tot. E poi lo tagliamo, lo velocizziamo, vediamo perché vi fracassi i marroni. Ve lo assicuro. Quindi. Quindi ragazzi per questo video è tutto. Ci vediamo nel decimo episodio quindi da Bayon Community. E Gabriele PRG. È tutto ragazzi. Quindi ciao a tutti. Ciao a tutti.